ciao e benvenuti in un nuovo video allora spero che siete pronti perché oggi si vola verso frontiere sconosciute palette di natasha denona roxa palette è questa qui togliamo vi lascio qualche codice sconto nel link dell'info box nelle stories ovunque è questa qui ed io l'ho solo aperta per le foto ma non swatchata perché la swatch amo insieme adesso ecco bello lo specchio che gli lascio la pellicola così non riflette no ragazze possiamo parlarne un secondo no ma è stupenda già così è stupenda e adesso la facciamo oltretutto io farei 1 2 3 4 5 5 per volta pronte non so come metterla perché vorrei fare vedere i colori anche voi partiamo è cremosa i glitter sono cremosi cioè sono in polvere però sono quasi burrosi quindi attenzione perché sennò non vorrei che cadesse ecco no ho paura che cara no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè ok allora l'appoggio ogni volta perché ho molta paura che cada video che vorrei sbocciare la intera allora questo è un altro pacco belli gli opachi comunque non sono polverosi per adesso questo è il primo doppio allora andiamo di fianco potevo farlo un po più sopra vabbè andiamo di fianco guardate questo che ho messo un opaco con glitter sopra come viene bello ma anche il glitter da solo e ora questo è il glitter da solo ecco andiamo col primo doppio colore no vabbè no vabbè se vogliamo parlarne così e questi sono gli opachi il caso vogliamo parlarne no stupendo il doppio è una cosa stupenda dopo finiamo e poi dopo lo faccio rivedere anche ma faccio vedere adesso perché è un viola con un glitter quindi andiamo a prendere un po tutti e due colori diventa un glitter viola da paura ok ma noi andiamo avanti perché ci manca ancora l'ultima fila ed è questa gli opachi ottima cosa che non siano affatto polverosi avete visto ed è il glitter si si sente un po lo spessore però uno guardate e due sono quasi cremosi quindi si stendono bene e questo è l'ultimo e questi facciamo sotto su mi pulisco la mano un secondo direi che è letteralmente fantastica gli opachi belli scriventi cioè guardate i rosa quanto sono scriventi i rosa questi due rosini qui quanto sono scriventi e poi c'è il glitter sono stupendi davvero stupendi io ve lo chiedo ma voi che cosa ne pensate di questa palette